impresa funebre eterna servizi funebri completi tumulazioni cremazioni servizi floreali 24 ore su 24 con serietà e professionalità impresa funebre eterna via salomone 94 chieti numero verde 800 913 558 perché noi ci mettiamo la faccia cerca il bollino prezzo amico feder casa e mostrando la tua tessera alla cassa potrai usufruire di vantaggi e sconti che l'associazione ha concordato per te grazie a tutti Auditorium Diocleziano di Lanciano, congresso davvero molto importante sull'urologia territoriale. A coordinare i lavori il professor Giuseppe Di Gioacchino, allora tanti illustri relatori, bella gente e temi di scottante attualità. Beh sì, diciamo, è monotematico sul carcinoma della prostata, è stato ripercorso un po' tutta la storia naturale del tumore della prostata, dallo stadio iniziale, magari che devo dire malattie a basso rischio, organo confinato, fino ad arrivare alla malattia metastatica, la progressione biochimica, laddove poi chiaramente il testimone passa nelle mani dell'oncologo. I temi più importanti sono stati, secondo me, l'importanza del ruolo virtuoso dell'urologo territoriale tra medicina di base e urologia ospedaliere ed universitaria. La multidisciplinarietà, quindi il rapporto con le altre professioni affini, mi riferisco soprattutto all'oncologia, alla radioterapia, alla medicina nucleare e via discorrendo. Quindi è molto importante che ci sia dialogo tra specialisti, in quanto è chiaro che il paziente, diciamo, si deve sentire guidato nel percorso durante la propria malattia. E oggi bisogna dire che soltanto, diciamo, che ben nove pazienti su dieci superano la malattia. O per un trattamento con intento radicale e quindi con la guarigione, o con un intervento, diciamo, di cronicizzazione per mantenere sotto controllo nel tempo la malattia. Sono stati fatti dei passi in avanti notevoli, anche se prevenire resta sempre meglio che curare. Beh, certo, la prima cosa è rivolgersi all'urologo e quindi cercare di adeguare la prevenzione al maschile a quella al femminile. E poi bisogna tener conto che oggi c'è stato un notevole sviluppo delle più moderne metodologie diagnostiche. Qui si è parlato, diciamo, molto della risonanza magnetica multiparametrica. E poi anche a livello terapeutico, sia nella chirurgia con, diciamo, il robot. Ci sono stati, diciamo, relatori di grossissimo spessore come il professor Gallucci, il professor Skips. E poi anche nella radioterapia. La radioterapia però sempre più cucita su misura, non soltanto sull'organo, ma, diciamo, anche a volte, diciamo, sul nodulo, proprio sul nodulo, quindi chiaramente con la stereotassica che è in grado di salvare non soltanto gli organi viciniore, ma alla prostata stessa. Anche da Lanciano, professore Di Gioacchino, un messaggio chiaro. L'Abruzzo, regione pilota anche in questo settore, nel campo urologico. Ottiva, noi nel 98 fummo precursori dei service a livello nazionale, con la presa in carico del paziente. Cioè, passando da un modello, diciamo, orientato sulla singola prestazione a un modello, invece, orientato, diciamo, sulla presa in carico del paziente e quindi sul problema clinico. Una presa in carico che chiaramente si deve articolare attraverso i vari momenti dell'approfondimento diagnostico e della gestione assistenziale di tipo conservativo di problematiche croniche o complesse, vedi, il tumore della prostata. Il tutto attraverso procedure che non richiedono un'assistenza infermierista superiore di tre ore. Questo per quanto riguarda l'orologia territoriale, quindi diciamo che abbiamo creato un precedente. Questo viene molto apprezzato dalle società e associazioni scientifiche nazionali. E poi, chiaramente, nella chirurgia urologica abbiamo delle professionalità, diciamo, su tutto il territorio abruzzese che, diciamo, esprimono una elevata, diciamo, professionalità. E qualche problema c'è perché a fronte della chiusura di tante piccole realtà, come era giusto che si arrivasse a questo, però probabilmente in prospettiva è bene evitare che i pazienti, magari, che devo dire, dopo una diagnosi precoce vadano a una terapia differita. Un convegno, tuttavia, qui a Lanciano, all'auditorium di Ocleziano, che si chiude con un bilancio tutto sommato positivo. Beh, sì, c'è stata una grossa affluenza, oltre 70 partecipanti, una trentina di relatori. Devo dire che anche il mondo del giornalismo si è avvicinato a noi. E questo, sinceramente, mi riempie di soddisfazione, in quanto noi abbiamo sempre creduto anche nel motto, saper fare, fare, far sapere. Luca Cindolo, urologo dell'ospedale di Vasto, parliamo di questo incontro a Lanciano, un convegno sull'urologia che mette davvero dei paletti ben precisi sui momenti di riflessione su questo importante argomento. Sì, un congresso importantissimo, organizzato in maniera eccellente da Peppino Di Giovacchino e dalla Società Italiana di Urologia Territoriale, che ha permesso agli specialisti della materia di interloquire con i medici del territorio, con i medici che affrontano la popolazione e che devono scambiarsi continuamente informazioni, devono condividere i percorsi dei pazienti per orientare le scelte migliori alla fine di migliorare la qualità della vita e la sopravvivenza della nostra popolazione. Migliorare il rapporto tra i medici di medicina generale e quelli di medicina specialistica, qui è il nodo della questione. Il nodo della questione è sempre questo ed è importante cercare di raccordare perfettamente tutti gli operatori che seguono il paziente. Il carcinoma della prostata ha delle peculiarità molto specifiche, innanzitutto la lunghezza dalla diagnosi fino al trattamento delle fasi avanzate, la multidisciplinarietà di tutti coloro che intervengono in diversi stati di malattia, dall'oncologo, il radioterapista, l'urologo nella fase diagnostica e terapeutica, così come tutto il controllo longitudinale nel tempo che è completamente a pannaggio delle figure del territorio, sia specialistiche sia di medicina generale. Un male tuttavia che fa meno paura rispetto a qualche anno fa. Perfetto, questo è il messaggio che mi sento di condividere completamente. Al carcinoma della prostata oggi bisogna riconoscere una pericolosità relativa. va tenuto in grande considerazione, va anticipato alla sua diagnosi, va trattato aggressivamente, precocemente e con le opportune cure, ma che certamente non uccide più come tanti anni fa. Con il professore Luigi Schipps parliamo di questo incontro a Lanciana, all'auditorio Mediocleziano, per approfondire i temi sul tumore alla prostata. Fa ancora paura questo male? No, fa sempre meno paura. Le nuove scoperte degli ultimi anni portano effettivamente delle nuove frontiere in tema soprattutto di nuovi e nuovi farmaci e quindi quello a cui si tende è alla cronicizzazione della malattia e quindi diciamo così che ci fa sempre meno paura la malattia. Quali passi sono stati fatti recentemente dalla ricerca scientifica? Ma i passi sono andati in diverse direzioni. Naturalmente è stata un'evoluzione per quanto riguarda sia i temi della diagnostica, della stadiazione e quindi leggi di risonanza magnetica multiparametrica. Oggi abbiamo sentito dei massimi esperti nazionali che il professor Manfredi. Poi naturalmente la terapia chirurgica, quindi qualcosa di molto caro a me, cioè la chirurgia robotica. E poi anche in tema di nuovi farmaci, ci sono dei nuovi farmaci molto importanti come Abilaterone e Enzalutamide e sono delle nuove frontiere e delle nuove applicazioni, quindi dei nuovi protocolli da provare e che hanno comunque già evidenziato negli studi scientifici un aumento della migliore prognosi e quindi un prolungamento della sopravvivenza. Ovviamente, ma tutto sommato, professore Schips, a questo PSA bisogna crederci o no? Anche alla luce di quelli che sono stati gli ultimi avvenimenti, gli ultimi libri, le ultime ricerche effettuate da illustri relatori. Molti parlano del PSA e naturalmente tutto è criticabile. Io ho una mia idea, cioè quella che fino a quando non abbiamo una reale, diciamo così, qualcosa che ci va a sostituire il PSA, di meglio non abbiamo. Siamo ben coscienti dei limiti di questo test, ma per adesso non abbiamo granché altro. Quindi fino a quando non abbiamo altro, bisogna usare questo test. Molti test che avevano promesso Mari e Monti, come si dice, effettivamente poi si sono rivelati come poco più del nulla. E quindi il PSA è un esame importante, bisogna usarlo come è giusto che sia usato, quindi sapendo che ha dei limiti, molto semplicemente, e che non è la Bibbia, che ha molti, molti, può dare, non può dare. Ha dei limiti e quindi va, va, va interpretato. Comunque sì, anche da Lanciano un'ennesima conferma che in Abruzzo sono terminati, anche in questo campo, nel settore urologico, i cosiddetti viaggi della speranza. Adesso, per l'amor di Dio, cioè, io dico sempre che i pazienti possono andare dove meglio credono, è giusto che sia così, ma la libertà dell'individuo. Quindi i pazienti devono andare dove meglio pensano di essere trattati. In Abruzzo. Ecco, il nostro compito è far sì che l'Abruzzo non deluda e che quindi dobbiamo metterci sempre al massimo livello, dobbiamo fare in modo che il paziente sia trattato nel migliore dei modi. Speriamo di riuscire in questo compito e noi ce la mettiamo tutta, come sempre, non solo io, ma la mia squadra, ma la ASL, ma anche molti colleghi abruzzesi e si lavora in questo senso. Auditorium Diocleziano di Lanciano, congresso davvero molto importante sull'urologia territoriale, a coordinare i lavori il professor Giuseppe Di Gioacchino, allora, tanti illustri relatori. È stato ripercorso un po' tutta la storia naturale del tumore della prostata, dallo stadio iniziale, magari, che devo dire, malattie a basso rischio, organo confinato, fino ad arrivare alla malattia metastatica, alla progressione biochimica, laddove poi, chiaramente, il testimone passa nelle mani dell'oncologo. I temi più importanti sono stati, secondo me, l'importanza del ruolo virtuoso dell'urologo territoriale tra medicina di base e urologia ospedaliere ed universitaria, la multidisciplinarietà, quindi il rapporto con le altre professioni affini, mi riferisco soprattutto all'oncologia, alla radioterapia, alla medicina nucleare e via discorrendo. Quindi è molto importante che ci sia dialogo tra specialisti in quanto è chiaro che il paziente diciamo si deve sentire guidato nel percorso durante la propria malattia e oggi bisogna dire che soltanto diciamo che ben nove pazienti su dieci superano la malattia o per un trattamento con intento radicale e quindi con la guarigione o con un intervento, diciamo, di cronicizzazione per mantenere sotto controllo nel tempo la malattia. Sono stati fatti dei passi in avanti notevoli anche se prevenire resta sempre meglio che curare? Beh, certo. La prima cosa è rivolgersi all'urologo e quindi cercare di adeguare la prevenzione al maschile a quella al femminile e poi bisogna tener conto che oggi c'è stato un notevole sviluppo delle più moderne metodologie diagnostiche e qui si è parlato diciamo molto della risonanza magnetica multiparametrica e poi anche a livello terapeutico sia nella chirurgia con diciamo il robot e ci sono stati diciamo relatori di grossissimo spessore come il professor Gallucci, il professor Skips e poi anche nella radioterapia la radioterapia però sempre più cucita su misura non soltanto sull'organo ma diciamo anche a volte diciamo sul nodulo proprio sul nodulo quindi chiaramente con la stereotassica che è in grado di salvare non soltanto gli organi viciniore ma alla prostata stessa. Anche da Lanciano professore Di Gioacchino un messaggio chiaro l'Abruzzo regione pilota anche in questo settore nel campo urologico. Ottimo, noi nel 98 fummo precursori dei service a livello nazionale con la presa in carico del paziente cioè passando da un modello diciamo orientato sulla singola prestazione a un modello invece orientato diciamo sulla presa in carico del paziente e quindi sul problema clinico. Una presa in carico che chiaramente si deve articolare attraverso i vari momenti dell'approfondimento diagnostico e della gestione assistenziale di tipo conservativo di problematiche croniche o complesse vedi il tumore della prostata e il tutto attraverso procedure che non richiedono un'assistenza inferminista superiore di tre ore. Questo per quanto riguarda l'orologia territoriale quindi diciamo che abbiamo creato un precedente questo viene molto apprezzato dalle società e associazioni scientifiche nazionali e poi chiaramente nella chirurgia urologica abbiamo delle professionalità diciamo su tutto il territorio abruzzese che diciamo esprimono una elevata diciamo professionalità e qualche problema c'è perché a fronte della chiusura di tante piccole realtà come era giusto che si arrivasse a questo però probabilmente in prospettiva è bene evitare che i pazienti magari che devo dire dopo una diagnosi precoce vadano a una terapia differita. Un convegno tuttavia qui a Lanciano all'auditorium di Ocleziano che si chiude con un bilancio tutto sommato positivo. Beh sì c'è stata una grossa affluenza oltre 70 partecipanti una trentina di relatori devo dire che anche il mondo del giornalismo si è avvicinato a noi e questo sinceramente mi riempie di soddisfazione in quanto noi abbiamo sempre creduto anche nel motto saper fare fare far sapere. Luca Cindolo urologo dell'ospedale di Vasto parliamo di questo incontro a Lanciano un convegno sull'urologia che mette davvero dei paletti ben precisi sui momenti di riflessione su questo importante argomento. Sì un congresso importantissimo organizzato in maniera eccellente da Peppino Di Giovacchino e dalla società italiana di urologia territoriale che ha permesso agli specialisti della materia di interloquire con i medici del territorio con i medici che affrontano la popolazione e che devono scambiarsi continuamente informazioni devono condividere i percorsi dei pazienti per orientare le scelte migliori alla fine di migliorare la qualità della vita e la sopravvivenza della nostra popolazione. Migliorare il rapporto tra i medici di medicina generale e quelli di medicina specialistica qui è il nodo della questione. Il nodo della questione è sempre questo ed è importante cercare di raccordare perfettamente tutti gli operatori che seguono il paziente. Il carcinoma della prostata ha delle peculiarità molto specifiche innanzitutto la lunghezza dalla diagnosi fino al trattamento delle fasi avanzate la multidisciplinarietà di tutti coloro che intervengono in diversi stati di malattia dall'oncologo il radioterapista l'urologo nella fase diagnostica e terapeutica così come tutto il controllo longitudinale nel tempo che è completamente appannaggio delle figure del territorio sia specialistiche sia di medicina generale. Un male tuttavia che fa meno paura rispetto a qualche anno fa. Perfetto questo è il messaggio che mi sento di condividere completamente al carcinoma della prostata oggi bisogna riconoscere una pericolosità relativa va tenuto in grande considerazione va anticipata la sua diagnosi va trattato aggressivamente precocemente e con le opportune cure ma che certamente non uccide più come tanti anni fa. cerca il bollino prezzo amico Federcasa e mostrando la tua tessera alla cassa potrai usufruire di vantaggi e sconti che l'associazione ha concordato per te. Impresa funebre eterna servizi funebri completi tumulazioni cremazioni servizi floreali 24 ore su 24 con serietà e professionalità Impresa funebre eterna via Salomone 94 Chieti numero verde 800 913 558 perché noi ci mettiamo la faccia e poi la faccia e la faccia Oggi nello spazio apposito dell'autoscuola Quadrifoglio di Pescara, ecco con Gianluca Di Fabio, veniamo a parlare di cosa si tratta nello specifico, perché in teoria, di teoria ne fate tante, a scuola oggi i giovani e i meno giovani avranno l'opportunità di mettere in pratica gli insegnamenti. La nostra autoscuola fa parte di un network di autoscuole a Marchio Aci presente in tutta Italia, oltre alle spiegazioni che facciamo in aula a livello teorico vogliamo anche offrire un aiuto dall'atto pratico e quindi oggi c'è appunto quest'area test che svolgiamo qui, ci sono prove che facciamo con i ragazzi con la nostra auto su fondo scivoloso, quindi simuliamo insomma un fondo viscido, Vediamo e conosciamo i limiti anche dell'ABS, il funzionamento, i vantaggi che ci dà e possiamo vedere nella pista anche che c'è un ostacolo che i ragazzi dovranno imparare poi ad evitarlo in fase di frenata. Ricordiamoci che abbiamo anche messo una prova che i ragazzi potranno fare per sperimentare cosa succede quando ci si mette la guida in stato di ebbrezza, quindi qualcosa di carino che probabilmente non si vede tutti i giorni. E' più difficile la teoria o la pratica a questo punto? Ma io direi che usciamo dalla scuola guida con la patente però tante cose poi le sperimentiamo sulla strada e quindi conoscere anche un po' di pratica sicuramente fa bene, perciò oggi approfittiamo con i ragazzi che intervengono qui per spiegargli un po' quello che abbiamo poi visto in autoscuola. D'altra parte l'autoscuola Quadrifoglio di Pescara ha in dotazione anche un simulatore molto importante, soprattutto per prendere visione in maniera pratica e senza combinare guai. Sì, siamo un'autoscuola che ha appunto un simulatore di guida e ci permette di far provare ai ragazzi ancora prima che prendono un po' la patente, avere di mistichezza un po' con i comandi dell'auto, quindi imparare un po' anche ad usare i pedali che sono poi importantissimi. Ecco, le regole sono sempre più severe ma i giovani, Gianluca Di Fabio, come si comportano? Come li vede cambiare nel tempo e negli anni? Ma ormai i giovani sono tutti più informati quindi le nuove tecnologie ci permettono di essere al passo anche con le norme e vedo effettivamente che insomma sì, sono anche più rispettosi un po' del codice della strada. Complimenti per questa struttura che si trova proprio all'inizio di via Verrotti, quasi al confine tra Montesilvano e Pescara, anche se questo è territorio montesilvanese, dove fate spesso e volentieri manifestazioni di pubblico interesse. Sì, siamo sempre impegnati ormai da diverso tempo con manifestazioni del genere, quindi proseguiamo sulla nostra strada insomma per insegnare la guida ai ragazzi in condizioni di sicurezza sempre. Ecco, vogliamo ricordare il concetto di sicurezza, qualche insegnamento da continuare a ripetere a beneficio dei più giovani, di coloro che purtroppo si mettono alla guida e spesso e volentieri si lasciano trasportare dall'euforia e dall'entusiasmo. Ma oggi leggevo un articolo sul giornale per quanto riguarda i controlli che stanno facendo i vigili e tantissime multe che ho letto per l'uso del cellulare, quindi una delle infrazioni più comuni e più gravi è quella dell'uso del cellulare. Anche perché si rischia il ritiro della patente? Sì, adesso si rischia tanto quindi con la sospensione della patente di guida, perciò quello che consiglio quando si ha la guida di non usarlo il cellulare e metterlo da parte, poi al momento opportuno insomma quando si è fermi parliamo il cellulare. L'autoscuola Quadrifoglio offre tanti servizi, non solo patente automobilistica ma anche patente nautica e tanto altro ancora? Sì, siamo già da diversi anni anche nel settore nautico oltre ad essere un ufficio ACI e aggiungiamo anche da alcuni anni con l'assicurazione, quindi copriamo un po' a 360 gradi l'automobilista. Guglielmo Marconi dell'ACI Ready to Go oggi a Montesilvano nello spazio prove dell'autoscuola Quadrifoglio per un driving test, insomma dalla teoria alla pratica per vedere come si comportano i giovani in determinate situazioni. Nello specifico che cosa avete fatto? Intanto grazie per l'intervento, nello specifico oggi facciamo usare un simulatore di guida, i ragazzi così riescono a testare teoricamente delle cose che poi provano praticamente in macchina. Qui abbiamo allestito un'area che immagino si veda successivamente dove ci sono tre o quattro esercizi che loro possono provare praticamente, ripeto. Noi lo consideriamo un metodo esperienziale questo, loro devono toccare con mano tutto quello che gli può succedere in strada. Dalla guida in stato d'ebbrezza che li faccio provare grazie agli occhialini speciali, all'evitamento di un ostacolo, probabilmente si vede dietro di me, che riescono ad evitare con una manovra ben precisa che gli andiamo ad insegnare chiaramente. Possono testare con mano tutti quelli che sono i sistemi elettronici della macchina, le SP, l'ABS in particolare, soprattutto l'ABS. Gli facciamo fare un piccolo slalom tra i coni per imparare a gestire contemporaneamente volante e acceleratore, molto importante per tutti i guidatori del mondo. Insomma, la velocità non è il solo pericolo quando si è in una determinata situazione? Eh, della dica che c'è bene, la velocità è un pericolo ma non è il solo pericolo, ce ne sono tanti altri. Noi diciamo che prima di tutto la distrazione è il pericolo maggiore perché io posso procedere anche lentamente con il mio veicolo, ma se non sto attento in macchina posso rappresentare un pericolo molto grosso comunque. Parliamo di questa collaborazione con l'autoscuola Quadrifoglio e con questo spazio che è davvero l'ideale per mettere in pratica determinati insegnamenti. Sì, dice bene, lo spazio è l'ideale perché per fortuna è uno spazio abbastanza grande che ci consente di mettere in atto tutti gli esercizi che vogliamo fare. L'autoscuola Quadrifoglio è una delle 180 autoscuole che collabora con Redi2Go su tutto il territorio nazionale. Sono dei professionisti che sono venuti a certificarsi nei circuiti di guida sicura dell'ACI, a Valle Lunghe e Allainate in modo particolare. Loro si devono certificare prima, imparare a guidare quello che noi intendiamo come guida sicura. Io dico guidare decisamente meglio. Dopodiché passano queste informazioni agli allievi e noi abbiamo il polso, sappiamo benissimo che gli allievi che si patentano con noi sono di un'altra categoria. Il simulatore di guida, in sostanza, a cosa serve? Il simulatore di guida è uno strumento didattico, serve ad apprendere, diciamo, in teoria e comunque anche simulando delle situazioni che poi si possono trovare per strada, in strada. Loro imparano a guidare in città, in autostrada, al simulatore, sicuramente poi rifanno le stesse cose anche in strada. Il simulatore ci aiuta perché comunque possiamo ripercorrere, far vedere certe situazioni in maniera anche continua, quindi le ripeto per tante volte, cosa che strada sarebbe difficile. E possono imparare nozioni di guida sicura, prima al simulatore e poi in strada. Ai giovani, a coloro che si mettono per la prima volta alla guida, che cosa si sente di dire? Beh, ai giovani intanto di fare attenzione perché loro spesso non hanno coscienza di non essere in grado di affrontare tutte le situazioni. Noi cerchiamo di aiutarli in questo senso, ma sicuramente serve tanta responsabilità e per noi c'è una parola magica che è consapevolezza. La consapevolezza che si può comunque rappresentare un pericolo, poi l'auto è uno strumento fantastico, divertente, eccezionale, può rappresentare un pericolo per cui bisogna gestirlo in un certo modo e noi speriamo di dare qualche dritta, come si dice a Roma, per arrivare a fare questo. Si dice che i giovani oggi sono più informati, sono più documentati, lei prova e testa tutto ciò? No, purtroppo la devo smentire. I giovani sono informati, teoricamente sanno un sacco di cose, ma poi la guida, sappiamo tutti, richiede tanta pratica, tanta esperienza. Tutto quello che si può imparare oggi con i metodi informatici va benissimo e ci mancherebbe altro, però poi l'esperienza comunque la fa da padrona, per cui i primi due o tre anni di guida bisogna stare molto attenti. A me piace parlare il linguaggio dei giovani, quindi li invito comunque a rimanere giovani e ci mancherebbe, però comunque a fare le cose con responsabilità e consapevolezza. Quali sono gli errori che comunemente si commettono, soprattutto nei primi anni di guida? Quelli classici che noi che abbiamo un po' di esperienza conosciamo bene, allora quando mi sento troppo sicuro, quindi magari penso che posso premere un po' di più sull'acceleratore e non dovrei farlo, oppure il fatto che mi sento troppo sicuro e penso che posso anche parlare a un cellulare mentre sto guidando. Io so benissimo che non è possibile parlare al cellulare, probabilmente lo sanno tutti gli ascoltatori. Non si può guidare e parlare al cellulare contemporaneamente, perché io per guidare ho bisogno di due mani. Allora ho un sistema Bluetooth in macchina che mi permette di farlo, cosa che io consiglio a tutti, altrimenti può diventare estremamente pericoloso. Io so di certo, lo sappiamo tutti, che i tempi di reazione, quando si parla il cellulare, salgono enormemente. Parliamo anche di ACI Ready to Go, perché offre tante opportunità per una guida sicura, una guida migliore, una guida che fa stare tranquilli. Assolutamente, io in questo caso mi rivolgo ai ragazzi, ma soprattutto ai genitori. Sappiate che le autoscuole Ready to Go oggi danno possibilità di formarsi molto molto di più degli altri. E soprattutto, ripeto, danno la consapevolezza che la macchina, l'automobile, è anche un pericolo in certe situazioni. Quindi noi cerchiamo di rendere il tutto divertente ai ragazzi con un percorso di guida che noi diciamo è esperienziale. Gli facciamo toccare con mano tutto quanto, quello che poi gli può succedere in strada. A questo punto pensiamo che dopo una giornata così, due giornate così, loro abbiano imparato veramente tanto e molto di più rispetto all'autoscuola classica. Oggi Driving Test, una bella iniziativa, una lodevole iniziativa che meriterebbe di essere ripetuta nel tempo. Assolutamente, noi speriamo, in questo caso con l'autoscuola Quadrifoglio, ma sicuramente con tutte le nostre autoscuole, consigliamo di ripetere queste esperienze una volta ogni due mesi, almeno perché tutti i neopatentati devono comunque passare per questa giornata, che sono sicuro perché lo tocco con mano, io di queste giornate ne faccio 150 all'anno più o meno. Quindi sono sicuro che i ragazzi dopo che hanno guidato qui, e me lo dicono, vanno a casa veramente più consapevoli. Spero anche più responsabili. Oggi comunque sia lei da insegnante, da istruttore è soddisfatto? Beh sì, io sono sempre soddisfatto. Allora io dico sempre se il titolare dell'autoscuola è soddisfatto e i ragazzi sono soddisfatti, ho lavorato bene. Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia, emozionante gare con il meglio della musica leggera, o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale, o addirittura con il Festival dell'umorismo, esilerante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Grazie! 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 Grazie!